Trattati e giardini del rinascimento del professore Tullio Taffuri. Grazie innanzitutto, stiamo qua a Teano sull'Oggione per la presentazione di questo libro, sono molto contento di tornare a Teano in questo posto meraviglioso al quale sono profondamente legato e quindi spero che sia una serata molto bella. Assolutamente, luogo di storia. Di cosa parla il libro? Il libro cerca di mettere in luce la relazione tra i trattati d'arte del rinascimento, alcuni trattati d'arte famosi come quelli di Leon Battista Alberti di Palladio di Vitruvio, che era un trattato d'epoca romana che però diventò molto famoso nel rinascimento, e la realizzazione dei più grandi giardini dell'epoca. Giardini rinascimentali che furono definiti praticamente dal primo grande storico dell'arte, che era Giorgio Vasari, addirittura il fiore del rinascimento. Quindi noi di solito associamo al rinascimento le opere di Leonardo, di Michelangelo, eppure nel rinascimento i giardini erano considerati l'opera d'arte più importante. Insomma, quindi ho cercato di ridare, come dire, voce, storia a questi giardini che nel corso del tempo, diciamo, la maggior parte di questi giardini sono andati perduti. Un libro molto affascinante, che prende, anche abbastanza tecnico il libro come è stato scritto, ma l'idea di scrivere proprio questo libro, questo cinture, da dove nasce? Allora, l'idea è in parte, questo libro, il nucleo, è un po' la tesi di dottorato, il dottorato di ricerca, però poi l'ho ampliato, proprio perché, come dicevo prima, come dico nel libro, i giardini sono state le vittime eccellenti nella distruzione del nostro patrimonio artistico, perché noi nel corso dei secoli ci siamo persi tantissime, tantissime opere d'arte. I giardini, ripeto, sono state un po' le vittime eccellenti di questa distruzione, quindi volevo ridare un po' onore e gloria a queste opere, delle quali non ne abbiamo più memoria. Per esempio, nel libro cito, per fare un esempio, la straordinaria Villa Repoggio Reale a Napoli, della quale non c'è più nessuna traccia, che è stata praticamente sostituita dal carcere e un po' più a monte dal cimitero, quindi ed era la villa di Poggio Reale a Napoli fu uno il giardiniere che costruì i giardini di Poggio Reale praticamente poi fu colui che ha inventato i giardini alla francese, quindi diciamo che i giardini francesi sono nati a Napoli, ma noi a Napoli non ne abbiamo più alcuna traccia. Ecco, era stato un modo per dare un po' di nuovo gloria e onore a queste opere d'arte che ci siamo persi. Un libro che parla di bellezza, in un periodo che di bellezza ce n'è poco, ce n'è poca. Chi vorrebbe acquistare il libro, cosa deve fare? Allora, lo trova ovviamente su internet, sulle piattafone, Amazon ovviamente, altre piattafone, ahimè, io preferisco... Abbiamo perso la piccola libreria, assolutamente, quindi lascerò comunque, ci saranno delle copie qua in varie edicole di Teano comunque, lascerò qualche copia. E quindi proprio per gustarci anche la bellezza, la bellezza anche del professore che come racconta le cose affascina, quindi c'è anche la bellezza del raccontare. Grazie. E quindi, ecco, invitiamo tutti quanti a comprare questo libro per ridivere un poco il passato, nella speranza che il futuro possa rifiorire come i fiori che stavano nel giardino. Assolutamente sì. Grazie. 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 Grazie a tutti.